Sì, bravissima, si vede anche qua e si sente riscaldato. Quindi adesso l'acceggiamento... Eh, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Eh, lì doveva fatto vedere, è uscito questo qua, lì da... Senta che si sente l'urlo che tira alla blupa da venire così.